Ciò che resta di quello che sarebbe dovuto diventare il cementificio di Sapri torna a far parlare di sé dopo il parziale abbattimento dell'ottobre del 2016. I carabinieri della locale stazione hanno infatti operato un sequestro preventivo dell'area di località Pali. L'operazione è stata effettuata assieme alla polizia locale di Sapri e da personale dell'ARPAC in attesa della convalida da parte dell'autorità giudiziaria di Lago Negro. I sigilli all'area sono stati posti al termine di una serie di controlli iniziati nei giorni scorsi dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, dal Comando di Polizia Municipale e dall'ASL perché i lavori di abbattimento sono risultati incompleti. Inoltre, le forze dell'Ordine e gli uomini dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale hanno constatato la presenza di altri rifiuti e materiali di vario genere illegalmente riversati nell'area stessa. Tanti cambi di proprietà della struttura, passata dai Corsicato e Iderosa fino alla Club Tirrenico SRL, fiumi di inchiostro e progetti tra cui quello di un mega albergo a metà degli anni Ottanta, vari tentativi di speculazioni edilizia, poi l'accordo nel 2013 con la firma del protocollo d'intesa tra l'attuale proprietà e la precedente amministrazione comunale di Sapri guidata da Giuseppe del Medico. Dopo l'abbattimento in Pompamagna di 13 mesi fa, nessuno è intervenuto per ripulire l'area e completare l'opera, fino al sequestro di ieri. Non abbiamo intenzione di far trascorrere ulteriore tempo in attesa della rimozione dei detriti e dei rifiuti che si stanno accumulando nell'area, sottolinea il sindaco di Sapri, Antonio Gentile. Ora è prioritario iniziare la bonifica dell'area stessa.